Quello che mi pare chiaro è che quando parliamo di Montepulciano parliamo di territorio, questo in più modi lo abbiamo detto e quindi siamo di fronte a un grande vino, siamo di fronte a un grande rosso italiano ma soprattutto stiamo raccontando un territorio. Può sembrare una cosa sentita e risentita ma credo che sia il centro della nostra attenzione che valga la pena di tenercelo come bussola. Però questo territorio non è uno ma sono dei territori. Mi è piaciuta molto l'immagine di Nicodemi del Diamante che non avevo sentito ancora, c'è questa idea proprio delle sfaccettature. Le sfaccettature che come giustamente ha detto anche Marco sono fatte di climi, sono fatte di spazi, di territori diversi, il mare, la montagna, anche le attività legate alla viticoltura che sono state sono diverse laddove erano attività prevalenti o attività che affiancavano altre attività come per esempio la pastorizia. Io ci aggiungerei a tutto questo una riflessione sulle persone perché accanto ai territori, accanto al lavoro ci sono le persone, ci sono tutti quelli che questo vino lo fanno, che coltivano l'uva, che sono magari appunto piccoli viticoltori o conferitori. Sono vocazioni diverse, sono culture diverse, sono storie diverse. Noi da questo cercheremo di partire. Cercheremo di raccontare questo perché ci sembra che attraverso questa diversità passi la grandezza, la qualità del Montepulciano d'Abruzzo. Probabilmente l'errore, se vogliamo trovare un errore, riguardando indietro tutta una serie di cose che sono state fatte, soprattutto a livello di comunicazione, è stato ignorare un po' questo aspetto di ricchezza e di varietà a cercare, ma come si è fatto per tanti prodotti, per tanti vini, non è solo il caso del Montepulciano d'Abruzzo, un parametro, una caratteristica, una centralità, rifarsi sempre a un modello che fosse forte, che fosse internazionale, che fosse riproponibile. Eppure questo modello andava poi a definire dei parametri che sono stati gli stessi su cui ci siamo magari ingabbiati nel racconto di questo vino. Non erano caratteristiche del vino, erano caratteristiche di un modo di raccontarlo e di un modello che era stato costruito. Dunque non esiste una sola espressione di Montepulciano d'Abruzzo, esistono più espressioni. Anzi direi che proprio fra i tanti vini, questa è una considerazione personale, è uno dei più eclettici, dalle espressioni più diverse anche rispetto ai contesti, al modo in cui lo si beve, alle tavole, ai piatti, al modo in cui lo si abbina. Tutte queste cose oggi sono veramente elementi di grandezza. Ecco, questa è la riflessione che mi sento di fare stasera, cioè cercare di capire di quanto siamo cambiati anche nel modo di ragionare di cibo e di vino e quindi quanto siamo cambiati anche nel capire il valore delle diversità. Ci poniamo molte più domande di prima e probabilmente solo con queste diversità riusciamo a darci delle risposte e riusciamo a portare dentro contenuti e valori che ci sono nel vino che non sono soltanto quelli organolettici. Evidentemente non possono essere soltanto quelli organolettici. Oggi chi beve un vino si interroga su che cosa c'è dietro. Chiaro, vuole sapere se è buono, vuole soprattutto provare piacere. Il piacere entrava anche in questa campagna ed è centrale nell'idea enogastronomica, centrale evidentemente anche per noi, visto che Slow Food è nata sull'idea della difesa al piacere. Però il piacere è anche qualcos'altro e a fianco agli aspetti organolettici c'è la storia, ci sono le vite, le persone, il lavoro e i territori. Allora da questo punto di vista io non posso che essere molto contento del fatto che sia nata una sinergia con Slow Food Editore per raccontare il Montepulciano d'Abruzzo. Quindi un progetto editoriale che prenderà corpo con un libro, anche se penso sia riduttivo definire questo progetto soltanto un libro, quindi partirà da un libro e che vuole intrecciare evidentemente non l'esperienza di esperti o non soltanto l'esperienza di esperti, giornalisti, critici che fanno parte del nostro gruppo di lavoro, della nostra redazione, ma vuole soprattutto cercare di avvicinare quello che è Slow Food, quindi un movimento, un insieme di persone, una rete di persone che è fortemente radicata sul territorio e che è fatta probabilmente anche da qualcuno di voi che è qui, con l'identità di questo vino e di questo territorio. Sono convinto che raccontando, non con un'opera geografica, non con un repertorio di aziende, ma raccontando il territorio e i territori attraverso ovviamente richiami scientifici, racconti, aneddoti, anche di storie, di valore che si intrecciano con la storia del vino, noi riusciremo a tirar fuori sempre di più il valore di questo Montepulciano Abruzzo e il valore di questo territorio d'Abruzzo. Io devo dirvi che io sono romano, da qualche anno vivo in Piemonte e in tutta sincerità l'Abruzzo è uno dei territori che, quando ci torno, e mi è capitato di frequente, lascia un segno molto diverso dagli altri, molto più forte, qualcosa di molto più incisivo e in questo segno l'aspetto enogastronomico, in particolare il bicchiere di vino, è una delle componenti più evidenti, più forti, più nitide. Quasi sempre attraverso grandi bicchieri di Montepulciano ci si porta dietro un ricordo, una sensazione che dura dei giorni. Noi cercheremo di partire da questo, cercheremo quindi di fare tesoro di tutta l'esperienza che abbiamo, ripeto, non soltanto come esperti di vino, ma anche come gruppo di persone che vivono in un territorio, quindi il nostro lavoro partirà in primis dal territorio d'Abruzzo, mettendoci un po' di coraggio, perché ci vuole anche coraggio a raccontare le storie di chi ha il coraggio di fare questo lavoro. Molto spesso, come ha detto Gianfranco Vissani, non è semplice. I viticoltori, i contadini, anche i cuochi e tutti coloro che fanno del vino un sistema di piccole economie di scala che funzionano molto bene. e cercheremo, come bene credo ha fatto questa campagna, di portare sempre più in alto la parola e l'identità d'Abruzzo, perché questo sarà la forza, io ne sono convinto, nella comunicazione, visto che qui si sta ragionando tanto di comunicazione del futuro del vino. Montepulciano sì, però Abruzzo-Montepulciano, tutto sommato metterlo prima non suona per niente male.